Superbonus del 110% e frodi fiscali. Da qualche giorno a questa parte praticamente non si parla d'altro. In tutti i giornali si parla dei miliardi di frodi riscontrati dall'Agenzia delle Entrate e tutti danno addosso a questa forma di incentivo fiscale. Tutta colpa del Superbonus è 110%. Tra l'altro abbiamo visto che Draghi non fa altro che criticare questa manovra del Superbonus che secondo lui è una forma di indebitamento negativa, seguito da Giorgetti che ha detto che è una forma con cui si sta drogando il mondo dell'edilizia e che va quanto prima chiusa. Questo ha portato a una forma di critica generale e di sospetto diffuso da parte di tutti nei confronti del Superbonus. Molti clienti, molti iscritti al canale mi scrivono e mi dicono Ingegnere alla fine questo Superbonus si è rilevato una truffa, noi non facciamo altro con i nostri soldi, con i soldi dei contribuenti ad incentivare tutti questi meccanismi di frodi fiscali. Ora la domanda che io mi sono posto è ma i numeri sostengono veramente queste tesi? Cioè veramente il Superbonus è il male di tutti i mali? Ha generato veramente tutte queste frodi? Quindi ho voluto un attimino verificare numeri alla mano se le cose stanno così. Quello che ho scoperto è sorprendente e ne voglio parlare in questo video. Sono Andrea Cipriano, un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimane aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi decidere di abbonarti al canale, sotto nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati e ti chiedo di mettere un mi piace al video e vediamo di che cosa si tratta. Ora qualche giorno fa il direttore dell'agenzia delle entrate al Senato ha mostrato tutti quanti in un'audizione al Senato ha mostrato tutti i numeri che fanno molto discutere relativi ai bonus fiscali e soprattutto al meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura che tanto hanno fatto discutere perché hanno dato vita a tutta una serie di frodi nei confronti dello Stato ed in particolare i numeri sono sostanzialmente questi. Al 31 dicembre del 2021 sono state contate circa, leggo perché non me ne ricordo a memoria, 4.787.000 numeri di comunicazioni all'agenzia delle entrate relative a cessioni del credito e sconto in fattura. Queste corrispondevano a 38,4 miliardi di euro complessivi di cessioni del credito e sconto in fattura. A fronte di questi 38,4 miliardi sono stati riscontrati 4,4 miliardi di crediti inesistenti quindi corrispondenti sostanzialmente a delle truffe. Ora i mass media hanno subito fatto l'associazione crediti fittizi, frodi fiscali relativi al mondo dell'edilizia uguale super bonus 110, ma io mi sono chiesto ma questi bonus, cioè queste frodi relativi e tutte queste richieste di cessioni del credito e sconto in fattura non sono relative soltanto al super bonus ma sono relative a tutte le forme di incentivo presenti nel mondo dell'edilizia quindi vediamo un attimino di questi 38,4 miliardi di cessioni di crediti e sconto in fattura come vengono ripartite dai vari bonus? E ho scoperto che circa 13,3 miliardi sono per il super bonus e 13,6 miliardi per il bonus facciate quindi si equivalgono bonus facciate e super bonus come miliardi relativi a cessioni del credito e sconto in fattura poi ci sono 5,4 miliardi per l'eco bonus, 4,9 miliardi quindi quasi 5 miliardi per il bonus ristrutturazione poco meno di 1 miliardo, 967 milioni per il sisma bonus e 1 milione e 100 per le colonie di ricarica per un totale di 38,4 miliardi di cessioni del credito ora, la cosa interessante è invece di quei 4,4 miliardi di crediti fittizi, quindi di frodi come vengono ripartite tra i vari bonus dell'edilizia? e qui ci sono stati dei dati che a me hanno sorpreso moltissimo infatti di quei 4,4 miliardi sostanzialmente di truffe perché sono crediti inesistenti il 46% sono riconducibili al bonus facciate quindi quasi 1 su 2, quasi il 50% il 34% all'eco bonus, il 9% al bonus affitti, l'8% al sisma bonus e il 3% al super bonus 110% quindi la manovra che viene tanto criticata e che viene tanto messa all'attenzione quando si parla di frodi fiscali e il super bonus quando le illegalità, i crediti fittizi, i crediti inesistenti generati con i bonus dell'edilizia sono riconducibili al super bonus solo per il 3% ma d'altra parte questa cosa anche dagli addetti ai lavori erano dati abbastanza scontati perché il super bonus 110% soprattutto in questa fase è un tipo di incentivo molto attenzionato e sottoposto a dei vincoli molto stringenti per cui è molto complicato generare delle frodi il fatto che il 46% di quelle frodi siano riconducibili al bonus facciate è una cosa scontata cioè il bonus facciate ricordo che era un bonus che era nato con le migliori intenzioni cioè quello di riqualificare l'aspetto esteriore di quegli edifici, le facciate di quegli edifici posti in zone di particolare interesse, le zone A e B, quindi centro storico e le zone fortemente ristrutturate, fortemente urbanizzate delle città però il bonus facciate quando è nato aveva due grossi limiti che si sapeva avrebbero generato tutte queste frodi quali erano questi limiti? innanzitutto non era previsto un tetto massimo di spesa per cui si potevano incentivare interventi di altissima, diciamo sforando i prezzi e poi non erano previste delle asseverazioni di concursità delle spese cioè non c'era un tecnico che doveva alla fine dei lavori asseverare e dire sì le somme che vengono portate in detrazione o per cui si beneficia degli incentivi statali sono effettivamente congruenti con gli interventi eseguiti ma da questo punto di vista dobbiamo dire che il legislatore a partire da questa uscita un po' disgraziata di questa legge a posto ora dei correttivi quali sono? allora innanzitutto con il decreto antifrode 157 del 2021 è stato stabilito che per il bonus facciate è necessaria l'asseverazione di congruità delle spese quindi quando si accede al bonus facciate è necessario che un tecnico asseveri e dica sì quello che si sta portando in detrazione diciamo quello che si vuole incentivare effettivamente è congruo con l'intervento eseguito e poi il bonus facciate è stato prolungato per il 2022 con un'alicota che è passata dal 90 al 60% quindi le si è reso molto meno appetibile secondo me era molto più sensato dopo aver preso queste decisioni e emanate queste leggi aspettare almeno uno o due trimestri per vedere che tipo di risultati avevano queste iniziative sul sistema delle frodi fiscali piuttosto che andare a fessare e limitare ancora il mondo del super bonus 110 andando ad esempio come ho detto e che ho criticato più volte andando a tagliare sostanzialmente il meccanismo della cessione del credito ponendolo al massimo al primo livello cioè potendo fare la cessione del credito soltanto una volta e in questo modo tutto quanto il meccanismo del super bonus si è inceppato questo bisogna dirlo si è fermato le poste hanno sospeso l'acquisto dei crediti fiscali e probabilmente quella stessa cosa faranno altre banche altri istituti finanziari allora prima di bloccare un meccanismo come quello del super bonus che aveva dato grossa linfa a tutto quanto il mondo dell'edilizia perché non si è cercato di verificare se le iniziative che sono state prese per limitare le frodi andando a colpirle settorialmente laddove si erano riscontrate le frodi cioè le frodi si erano riscontrate nell'ambito del bonus facciate erano stati fatti dei correttivi al bonus facciate? sì allora aspettiamo i risultati di queste azioni mirate a limitare le frodi con il bonus facciate e poi semmai cerchiamo di attuare altri correttivi anche agli altri incentivi fiscali perché andare ad additare e andare a colpire per forza il super bonus se abbiamo visto il sistema delle frodi colpisce il super bonus diciamo che relativa al super bonus è al pena del 3% allora è perché si vuole colpire il super bonus allora la politica ci deve dire in maniera molto chiara che le casse dello Stato non possono sostenere il meccanismo del super bonus è stato un gioco non lo potevamo fare e lo chiudiamo qui però è inutile additare come e far passare come sistema fraudolento quello del super bonus quando dati alla mano solamente il 3% di quei 4,4 miliardi di frodi fiscali sono riconducibili al super bonus gli altri sono riconducibili ad altri tipi di bonus che erano presenti già prima bonus facciate bonus ristrutturazioni ecobonus ordinario e così via ora speriamo che il legislatore riveda un pochino alcune decisioni faccia qualche passo indietro per poter far ripartire nuovamente il meccanismo del super bonus spero che questo video ti sia piaciuto ti chiedo di mettere un mi piace come hai detto iscriviti al canale youtube e cliccando sulla campanellina rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video se vuoi puoi decidere di abbonarti seguimi anche sulla pagina facebook grazie a tutti